Proseguirà nei prossimi giorni nella Commissione Cultura della Camera l'esame del disegno di legge a firma della deputata Lucia Zolina di Movimento 5 Stelle, disegno di legge finalizzato a ridurre il rapporto numerico fra alunni e docenti. Il provvedimento è già stato presentato nei giorni scorsi in commissione e subito si sono aperte le polemiche. L'opposizione per bocca delle deputate Valentina Prea di Forza Italia e Anna Scani del PD hanno osservato che prima di dare avvio all'esame di merito bisognerebbe affrontare il tema delle risorse. La relazione illustrativa infatti evidenzia che per raggiungere gli obiettivi previsti dal disegno di legge sarebbero necessari più di 2 miliardi in tre anni. Il 5 Stelle Luigi Gallo, che è anche il presidente della Commissione, ha accusato PD e Forza Italia di essere contrari al progetto, ma ha anche aggiunto i parlamentari del Movimento chiederanno con forza al governo di stanziare per il 2020 i primi soldi necessari per avviare il progetto. Come dire quindi che per il 2019 non si tocca nulla. Insomma stop alle classi pollaio ma non da subito. Mercoledì 16 in Commissione Cultura è prevista la prosecuzione dell'esame del provvedimento e forse si incomincerà a capire se la maggioranza di governo ha davvero intenzione di fare sul serio su una questione così importante ma anche di difficile soluzione.